Un omaggio al grande Pierpaolo Pasolini. Domani alle 17.30 nell'auditorium del Parco, nell'ambito dell'Aquila Film Festival, si terrà la presentazione del libro Pierpaolo Pasolini, Vivere e sopravvivere, di Italo Moscati. All'incontro, moderato dal giornalista scrittore Antonio Di Muzio, parteciperà anche il professor Angelo Moscariello. Quest'anno ricorre il quarantennale della morte dell'autore di Casarza, assassinato nella notte tra il 1 e il 2 novembre, nell'Ido di Ostia, nel 1975. E l'organizzazione dell'Aquila Film Festival ha pensato bene di ricordare Pasolini, con due tra i più grandi studiosi dell'opera del regista scrittore. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Lindau, ripercorre le tappe del poeta, focalizzando l'attenzione sul periodo della contestazione alla fine degli anni Sessanta, sulla presentazione di Teorema alla mostra del cinema di Venezia, sui contrastati giudizi della Chiesa, sul rapporto con gli altri autori, ma anche sull'isolamento di Pasolini. Ne esce dal libro di Moscati un personaggio placido e fragile, che contrasta con la sua rabbia, dei suoi interventi, corsari sulla stampa, ma allo stesso momento un personaggio dalla forza sovrumana e fuori dal tempo. Il suo è un romanzo esistenziale, sacro per dignità e pensiero, inviolabile patrimonio di chi non lo commemora, ma ne avverte acutamente la mancanza. Angelo Moscariello poi introdurrà la visione di Medea alle 18.30, interpretata da una grande Maria Callas, la donna che insieme con Laura Betti ha caratterizzato per vari motivi la vita di Pasolini. Nell'incontro si parlerà anche di questo rapporto con la celebre soprano greca, La Medea di Pasolini, scrive Antonio Di Muzio, appare a temporale una metafora della crisi del nostro tempo, dove la fine della storia e l'inizio della stessa coincidono, in un'epoca dove ogni valore sacro e le stesse basi dei rapporti materiali tra esseri umani e tra questi e l'ambiente si sono inevitabilmente corrotte.